Ciao, pao pao, un saluto a tutti i nostri amici! Ma nonno, quando è buono! Quando è buono che l'amore mamma! Ciao ragazzi e ciao ragazzi, eccomi qua con un nuovo video e vi voglio fare un nuovo video sui prodotti miei preferiti dell'ultimo periodo che sto amando e che sto utilizzando tantissimo prodotti bio e con buoni inchi, insomma, sempre sull'economico buono insomma, non per forza bio, però che almeno abbiamo un inchi perché come vi dico sempre ragazzi, non vi fidate solo della scritta bio che è un prodotto biologico e certificato controllate sempre l'inchi perché è l'unica cosa di cui davvero ci possiamo fidare quindi gli ingredienti che contiene il prodotto non vi fidate di tutte queste cose automatizzate, tipo tutte queste app perché comunque sono delle cose da prendere un po' con le pinze perché ovviamente sono cose automatizzate quindi molto spesso, come vi dico sempre, un prodotto va giudicato nella sua formula, nell'integrità della formula non possiamo dire, c'ha tre pallini rosse, allora non va bene perché ci sono ingredienti rossi che sono dannosi ingredienti rossi che semplicemente non sono biodegradabili però che non vi causeranno nessun danno alla pelle oppure semplicemente che magari sono alla fine dell'inci magari un conservante, ok, ci può stare quindi io i prodotti che vi faccio vedere sono prodotti che sono buoni dal punto di vista della formula a prescindere che siano bio o non bio sono buoni, sono convenienti, valgono i soldi che costano e soprattutto io li amo e mi sono trovata benissimo e quindi ci tengo tantissimo a farvi questi video il primo prodotto è questo qua di Anthos praticamente è un fluido per capelli voi mi chiedete sempre sempre di prodotti tipo di styling per capelli e questo è molto buono praticamente è un fluido crema non è gel, è cremoso e la cosa bella è che però ha una bassa percentuale di grassi quindi questo qua lo può utilizzare anche chi ad esempio ha capelli normali o grassi perché non sporca i capelli a differenza di un olio o qualcosa di eccessivamente untuoso una cera, no? questo è molto leggero però comunque è idratante districa tantissimo i capelli li lucida ed è ricco ricco di estratti vegetali che quindi disciplinano i capelli li rendono lucidi toglie tantissimo l'effetto crespo io questo lo uso o un pochino prima di asciugarmi i capelli oppure a fine asciugatura dei capelli e vi posso assicurare che non li sporca anche idratandoli tantissimo praticamente una crema per capelli insomma e non costa tanto quindi ha un buon inch e non costa tanto è super super naturale è fatto bene anche se non è bio vedete quindi quello è il discorso poi volevo parlare tantissimo di questi due due prodotti a basso costo che mi sono piaciuti tantissimo della marca Sante Sante Natur Cosmetic e questi qua sono veramente buoni ragazzi e sono straconsigliati anche da mia sorella perché le fanno i capelli anche a me lucidissimi stralucidi e questi qua se vi ricordate il video vlog che facemmo sushi sushi challenge casomai ve lo lascio in sovraimpressione se l'avete perso lei aveva capelli super lucidi e bellissimi e aveva utilizzato proprio questo shampoo e questo balsamo quindi ve li straconsiglio sono velvet rose questo qua e questo è appunto il balsamo infatti si chiama brilliant care sono veramente buoni delicato, naturale, curativo e balsamo condizionante sono super lucidanti perché infatti contengono vari estratti tipo di rosa canina rosa damascena sono tutti estratti vegetali lucidanti contengono anche le proteine idrolizzate che li districano quindi diventano tipo soffici luminosi comunque questi due sono stati buoni e anche questi qua non costano tanto come prodotti poi ragazzi allora come prodotto per la cura del viso questo qua sto utilizzando tantissimo e mi piace tanto tanto è questo acqua struccante di Johnsac è un bel fracone grande molto molto grande che quindi conviene anche a livello di prezzo perché poi per struccarsi cioè fai tipo due zic sul dischetto e ti strucchi quindi ti dura veramente tantissimo è un'acqua struccante molto delicata che quindi si può utilizzare anche sugli occhi non bruciare gli occhi sul viso dove volete voi questa qua la potete utilizzare anche se avete problemi di occhi sensibili o se avete l'extension alle ciglia perché c'è bisogno di uno struccante non oleoso quindi in quel caso questa qua va benissimo e contiene l'acqua di camomilla quindi ecco perché è super delicato e va bene anche sul viso questo somiglia tantissimo alla mia acqua struccante fatta in casa se vi ricordate vi feci il video un po' di tempo fa dell'acqua struccante questa ci somiglia veramente veramente tanto ecco perché probabilmente mi piace così tanto anche il dispensare è molto carino perché si preme sopra quindi se si va di fretta non bisogna stare ad aprire o a fare movimenti strani ed è veramente veramente buona una delle mie acque struccanti preferite in assoluto infine ragazze il prodotto di cui ora devo parlare è questo qua è praticamente questo è lo scatolo della maschera perché questo fa sia la maschera che lo shampoo di questa linea che è della NETURS all'olio di dattero e praticamente è molto molto buono questo è uno shampoo che è volumizzante ma ci sta anche tipo shampoo se mi sbaglio nutriente varie tipologie di shampoo comunque sono tutti buoni e tutti pressoché simili e non variano tantissimo questo forse come costo rispetto agli altri non è proprio bassissimo però comunque ci vale ci vale perché è un prodotto veramente veramente buono ricco di estratti pulisce bene quindi fa una bella schiuma quindi a differenza di tanti shampoo bio che magari non ti districano senti che non ti lavano bene questo è formulato bene è formulato bene che ti senti che ti pulisce quindi sono prodotti veramente buoni ti lasciano i capelli comunque morbidi però voluminosi e lucidi quindi questo è tutto ragazzi se vi è piaciuto questo video se vi piace questo genere di video mettete un bel pollice in su così ve ne faccio tanti altri e fatemi sapere nei commenti voi se avete provato questi prodotti se vi sono piaciuti oppure magari se ne avete trovati altri molto buoni che mi volete consigliare volete che ho recensisca nei prossimi video fatemelo sapere perché come sapete vi piace tantissimo leggere i vostri commenti e scoprire nuove cose insieme e vi mando un bacio grande se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale seguitemi anche sui social facebook instagram insomma un po' dappertutto e vi mando ancora un bacio ciao ciao anche da cookie e da molly che dormono bello dove è la testa di molly no vabbè ah ma sta là dietro sembrava che non aveva la testa invece sta la molly molly eccola ce l'ha la testa vabbè ciao 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 Grazie per la visione!